Lo sportello del cittadino si sta occupando della problematica relativa alla violenza subita dalle donne e siamo con Gianna Cavallo, responsabile del settore pari opportunità e attività sociali dell'associazione Stella Maris di Taranto, che ha creato proprio lo sportello Universo Donna. Andiamo nello specifico, parliamo di questi corsi. Allora, nello specifico, partiamo essenzialmente con il corso organizzato con l'ausilio della psicologa Anna Colotta, che gentilmente e in maniera spontanea e volontaria, insomma, si adopera e ci dà una mano e ci dà il contributo della sua professionalità. Questo corso è istituito soprattutto per il recupero della personalità e soprattutto per recuperare l'autostima. Poi ci sono tutta un'altra serie di corsi che abbiamo già strutturato e che stiamo programmando e abbiamo pensato che sicuramente con un corso di scrittura, con un corso di pittura, con un corso di recupero dell'artigianato, che ormai si è perso e anche con delle attività fisiche, quindi attività sportive, sicuramente riusciremo a dare delle motivazioni diverse e forti alla donna per superare quelle che sono, insomma, dei momenti di buio totale e di grandi sofferenze. L'aggregazione sociale come strumento per dare luce a quel buio. Certo. Io vorrei invitare, insomma, la cittadinanza a chiamarci telefonicamente e tutte quelle persone che vogliono contribuire o che vogliono usufruire dei nostri servizi. E vorrei invitare tutti il 25 di novembre, giornata mondiale per contrastare la violenza sulle donne, dove noi abbiamo organizzato una marcia con tutte le amiche e sensibilizzeremo l'opinione pubblica a una raccolta di fondi per organizzare un corso di difesa personale.